Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro Tg. Vediamo insieme ai titoli principali della giornata. Brutale aggressione a colpi di bastone ai danni di un trentenne nelle campagne di Coriano. I carabinieri stanno dando la caccia ai responsabili. Oggi sono diventati ufficialmente operativi i cantieri per i primi due tratti del Parco del Mare a Rimini. Il sindaco annuncia anche novità per la stazione. Verso le regionali, alla nostra trasmissione fuori dall'aula, acceso confronti in vista del voto tra i segretari riminesi di Lega e PD, Galli e Sacchetti. Sarà segnato all'odontoiatra missionario Davide Migani lo Iano Planco d'Oro 2019, il riconoscimento dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Rimini. Momenti di paura oggi pomeriggio nelle campagne di Coriano, dove un uomo è stato aggredito all'interno della propria abitazione e poi era in corso all'esterno e ferito in maniera seria da tre persone incappucciate il servizio. Una brutale aggressione che assomiglia a tutti gli effetti ad un regolamento di conti. Oggi pomeriggio intorno alle 16 a Sant'Andrea in Casale, un trentenne egiziano è stato massacrato a colpi di bastonate da tre uomini col volto travisato. I tre avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione in via Costa Grande, ma il nordafricano sarebbe riuscito a divincolarsi e a fuggire in un campo. Rincorso dagli aggressori è stato raggiunto e bloccato a terra prima di essere riempito di calci, pugni e bastonate. Una volta terminato il ride punitivo, il terzetto si è allontanato a bordo di un'auto, facendo perdere ogni traccia. A dare l'allarma ai carabinieri di Riccione è stato un'amica dell'egiziano che avrebbe assistito parzialmente al pestaggio. Quando sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, il trentenne era ancora disteso a terra, con il corpo pieno di lividi. Cosciente è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale infermi. Non si esclude che a causa delle gravi lesioni riportate possa essere trasferito nelle prossime ore al Trauma Center del Bufalini di Cesena. I carabinieri stanno scavando in queste ore nel passato del nordafricano alla ricerca di elementi utili alle indagini. Alle spalle il trentenne avrebbe vecchi precedenti per droga e se a questi si aggiungono le modalità del feroce pestaggio, ecco che la prima ipotesi avanzata dagli investigatori è quella del regolamento di Conti. Tre giorni fa era stata arrestata mentre viaggiava in auto con un ingente quantitativo di eroina. Poi da una successiva perquisizione nel suo garage era spuntata anche una pistola calibro 7,65 con silenziatore e matricola brasa. Ma le indagini dei carabinieri di Cattolica nei confronti di una donna di salutecio di 55 anni non si sono fermate e ieri durante un'altra perquisizione sempre all'interno di un garage che fa parte dello stesso complesso residenziale nel Pesarese sono stati sequestrati 3 kg di eroina, 300 grammi di cocaina e 6 flaconi di metadone. Oltre alla droga nascosti in una cassaforte c'erano bilancini di precisione e una pressa. Un giro d'affari stimato dai carabinieri intorno ai 200 mila euro. La donna si trova attualmente in carcere. Cambiamo ora decisamente argomento. Sono ufficialmente operativi da oggi i cantieri per i primi due tratti del nuovo parco del mare di Rimini. Alla foto di inizio attività hanno partecipato rappresentanti della giunta e degli imprenditori balneari e riminesi. Con i cantieri scattano anche le modifiche al traffico. Il servizio. Sono il lungomare Tintori a Marina Centro e il lungomare Spadazzi a Miramare i primi due tratti del progetto del parco del mare che da oggi entrano ufficialmente in fase cantiere. L'obiettivo è concludere gli interventi entro la prossima estate. Saranno ridefiniti i percorsi ciclabili e pedonali. Saranno realizzate e passeggiate con doghe in legno, con nuovi servizi e funzioni e senza auto. Oggi siamo veramente fieri di poter dare avvio a questi lavori che forse si attendevano da oltre 70 anni nella città. Quindi il primo cantiere che parte per poi proseguire con anche gli altri cantieri. Sapete che il nostro comune ha intercettato importanti finanziamenti sia regionali che ministeriali che ci consentiranno di proseguire poi questi lavori anche sul tratto 2 e il tratto 3 ovvero da Piazzale Kennedy proseguire fino a Tripoli e poi fino a Pascoli. Quindi è un work in progress molto concreto quello che iniziamo oggi. Dei tanti aspetti del progetto che segue le linee di indirizzo elaborate dallo studio Mirai e Staglia Bue, il sindaco oggi sottolinea quello della sicurezza idraulica con una passeggiata che sarà quasi 3 metri sopra il livello del mare. Il clima cambia dappertutto, avete visto quando spinge lo scirocco, ci sono le piogge. Mezzo Italia, mentre vi sto parlando, una parte della nostra regione e molte regioni del nord sono in allerta rossa, esondano i fiumi, è più caldo, piove di più, il paese non tiene, non abbiamo fatto investimenti strutturali. Se vogliamo vivere in una terra che non sprofonderà sotto l'acqua dobbiamo cambiare, dobbiamo innalzare il lungomare, lo stiamo facendo. Questo lungomare ha le fogne, si rialza per lottare e per sconfiggere l'ingressione marina. Quanto alla circolazione, da oggi è chiuso al traffico il tratto da Piazzale Kennedy a via Beccadelli, mentre il lungomare Spadazzi resta percorribile in direzione Riccione con divieto di sosta. In tema di mobilità, il sindaco Gnassi, oltre a tornare sul metromare, ha annunciato anche novità per la riqualificazione della stazione. Il PM10, le polveri sottili, l'inquinamento fanno sì che non attiriamo più turismo internazionale. Cambia il mondo e cambiamo anche noi. Adesso c'è il metromare, avete visto? Dovevamo averlo prima e dovevamo averne dieci, non farlo. È assurdo, sono appena stato con tutti gli operatori turistici della Romagna e uniti siamo più forti perché vogliamo portare il metromare fino a Ravenna per vendere nel mondo i mosaici di Ravenna e Fellini. Allora cosa cambia? Cambia tutto e cambierà anche la mia abitudine. Così pedonalizzeremo il ponte di Tiberio, così pedonalizziamo il lungomare perché facciamo il metromare, fila dritto. Sono stato con Gentile, l'amministratore delegato di FS, vi do una notizia, partiranno i lavori del sottopasso della stazione in modo tale che dalla Marina Centro prendi il metromare. Si è parlato delle regionali del 26 gennaio in Emilia-Romagna nella puntata di Fuori dall'Aula andati in onda ieri sera su Icaro TV. In studio i segretari provinciali di PD e Lega, Filippo Sacchetti e Bruno Galli. Si è parlato di programmi e campagna elettorale ma anche delle manifestazioni delle sardine e delle eventuali ricadute nazionali del voto. Vediamo. Se queste sardine o sardoni o non lo so, sono diventati l'alternativa, mi viene da pensare che non c'è un governo. Non c'è un governo perché stanno nascendo contro Matteo Salvini, contro l'opposizione e segnalo sommessamente che al governo nazionale c'è il PD con i 5 Stelle, al governo della regione da 60 anni c'è il PD. Quindi se nasce questo movimento di protesta e alternativo, se è alternativo nei confronti della Lega, Houston abbiamo un problema. È un movimento che sta cercando di respingere un'idea che per troppo tempo abbiamo anche tollerato, fosse legittima, che è quello che si può affrontare, qualcosa che tocca la vita dei cittadini, come ad esempio il tema della regione, soltanto a suon di consenso, di propaganda e di messaggi elettorali. Per cui basta che arrivi Salvini che inondi invada il campo della comunicazione, il campo mediatico, il campo del consenso nazionale anche in Emilia Romagna per dire che l'Emilia Romagna è una terra che non funziona, che non va bene, basta col PD, hanno questi tre slogan. Le sardine sono nate di sicuro non da un ceto politico, ma da una piazza che sta dicendo ci ritroviamo in silenzio, numerosi, per contrastare l'idea che l'invasione valga anche sui territori che hanno invece qualcosa da mantenere, da preservare. Ritengo che avere un leader carismatico e attrattivo non sia una colpa. Secondo me se il PD aveva i Renzi di tre anni fa o quattro anni, con le date non sono bravissime, ce lo sarebbe tranquillamente giocato sul territorio. Se loro non hanno un leader attrattivo e anzi vedo Bonaccini che nasconde il suo logo elettorale e ha cambiato anche il fattore cromatico. Sta lanciando questa sua campagna elettorale come succede sempre prima della presentazione delle liste attraverso la sua ricandidatura perché lui sarà sostenuto da una coalizione. La prima cosa che dobbiamo comunicare e vogliamo trasmettere ai cittadini è che ci si può fidare di questa persona. L'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Rimini il 7 dicembre in una cerimonia al Grand Hotel consegnerà allo Iano Plancodoro, riconoscimento istituito dallo stesso ordine per premiare i medici che con il loro operato danno lustro e prestigio alla sanità riminese in Italia e nel mondo. Quest'anno sarà assegnato a Massimo Migani, odontoiatra missionario e direttore dell'ospedale Luisa Guidotti di Mutoco in Zimbabwe. Il servizio. Il primo anno è stato assegnato al battagliero Roberto Burioni per la sua campagna nazionale a favore dei vaccini. L'anno scorso all'ambulatorio della Caritas di Rimini nessuno escluso. Quest'anno l'Oiano Plancodoro andrà a Massimo Migani, giovane odontoiatra missionario di 42 anni che dopo molti anni in Africa al fianco della dottoressa Marilena Pesaresi nell'ospedale Luisa Guidotti di Mutoco in Zimbabwe, oggi ne è direttore e ha avviato il reparto odontoiatrico, l'unico esistente. È uno dei pochi odontoiatri missionari in Africa, ce ne sono altri, ma lui sicuramente ha messo l'entusiasmo e anche la grande capacità organizzativa, posso dire, romagnola, perché so che sta facendo tanto. Per noi è un esempio, non che dobbiamo fare tutti i missionari, ma è un esempio dove la capacità di superare il proprio egoismo rende grande anche la professione del medico. L'Ordine conta attualmente 2045 iscritti, di cui 395 odontoiatri. Quest'anno ci sono state 81 nuove iscrizioni, 42 dottori e 39 dottoresse. Non c'è stata nessuna radiazione, ma sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di un medico odontoiatra per esercizio abusivo della professione e su un medico no-vax. Due, le criticità più evidenti di questi ultimi anni, la carenza di specialisti ospedalieri, a Rimini in particolare nel Dipartimento d'Emergenza, e la questione della sicurezza. È sempre più difficile trovare medici che coprono ruoli di medico di emergenza, medico di rianimazione, medico di terapia intensiva. Stiamo facendo molto a livello di federazione, nazionale, per aumentare il numero delle borse di studio e quindi per aumentare gli specializzanti e gli specialisti del domani. In questo momento cerchiamo delle soluzioni tampone, formazione sul campo di medici non specialisti per immetterli a ricoprire questi ruoli. Poi il tema della sicurezza e dell'aggressione, la violenza sugli operatori sanitari, anche qui abbiamo fatto una campagna nazionale. Abbiamo fatto una ricognizione su tutti i posti di guardia medica che siano resi sicuri per chi lavora di notte in questi luoghi, a volte isolati, e anche negli ospedali si fanno dei corsi, non dico di autodifesa perché sarebbe troppo, ma dei corsi di formazione per evitare quello che è il litigio, quel messaggio è che chi lavora in un ospedale, in un ambulatorio è lì per aiutarti. Si è aperto oggi al Palacongressi di Rimini il 56esimo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia. L'evento scientifico si concluderà sabato e vede riuniti al Palace oltre 2.000 medici coinvolti in sessioni scientifiche e corsi pratici. Le malattie reumatologiche sono quanto mai diffuse. Solo l'artrite e l'artrosi interessano il 16% della popolazione residente in Italia e rappresentano le due patologie croniche più diffuse dopo l'ipertensione. L'ostoporosi invece colpisce un italiano su tre con più di 75 anni. Uno dei principali strumenti di prevenzione è l'attività fisica. E sul Ponte in Edicola oggi una scoperta su Federico Fellini, la sua prima infante al settimanale infatti riporta uno studio condotto dal professor Davide Bagnaresi che porta alla luce la vera casa natale di Federico Fellini. È sempre in Viale Dardanella, Marina Centro, ma non è lo stabile che si è supposto finora. Bagnaresi che riproporrà l'intera vicenda in occasione del convegno Ho bisogno di credere Federico Fellini e il Sacro, che si svolgerà nel marzo 2020 tra Rimini e Roma, oggi è intervenuto a tempo reale. Federico Fellini nasce a Rimini nel gennaio del 20, però la sua famiglia è una famiglia che in un certo senso sta girando tra Gambettola e Roma. Quindi cosa significa? Significa che i genitori che volevano tornare a Roma si fermano per qualche mese a Rimini e si fermano e affittano una piccola casa, una casa popolare appena costruita in Viale Dardanelli. Il numero era il numero 10, il problema è ricostruire oggi quel numero 10, visto che è cambiata la numerazione. Ma c'è una coincidenza, Federico Fellini nasce la sera del 20 gennaio e il 25 gennaio viene battezzato a San Nicolò, madrina di Federico Fellini è Clara Canuti. Quindi sono andato a cercare, dopo tante ricerche, questo nome nel catastro storico e Clara Canuti casualmente è la proprietaria di quell'appartamento, sito in Viale Dardanelli numero 10 in quell'anno. Quindi a questo punto è eureka, come si suol dire, ed ecco che si va appunto a cercare in altri archivi quel numero 10, oggi a che cosa corrisponde e oggi appunto è venuto quel numero 60. Spero di aver dato in questo senso un piccolissimo contributo, insomma la conoscenza di un nostro grandissimo concittadino che se posso aggiungere ha amato molto questa città, ripeto l'ha messa in tanti suoi film e se posso anche aggiungere alcune cose le sono emerse tante altre. Se noi guardiamo a fondo i suoi film troviamo tantissime rappresentazioni di spiritualità, tantissime manifestazioni, per esempio anche di quella che è la vita di chiesa, che lui conosce molto bene. Provate a contare in quante scene, per esempio, compare il suono delle campane oppure compaiono preti, suore o comunque persone di chiesa. Vedrete che non riuscirete a contarle, tanto è alto il numero. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it, grazie per essere stati con noi, a tutti voi buon proseguimento di serata.